Si chiudono anche gli ultimi metri di filo spinato a blindare la frontiera dell'Ungheria che è anche per un pezzo di frontiera dell'Unione Europea. I soldati li chiudono sotto gli sguardi dei collati dalle telecamere. Si chiudono gli ultimi metri di filo spinato a blindare la frontiera dell'Unione Europea. Si chiudono gli ultimi metri di filo spinato a blindare la frontiera dell'Unione Europea. Si chiudono gli ultimi metri di filo spinato a blindare la frontiera dell'Unione Europea. Grazie. Grazie. Grazie.